Il libro Litigare fa bene è un aiuto concreto ai genitori, in generale agli educatori ma specialmente le famiglie ad avere un atteggiamento positivo nei confronti dei litigi infantili. In altre parole abbiamo scoperto che la scienza riconosce nei bambini una capacità abbastanza spontanea e naturale di gestire le proprie controversie in modo pacifico, ossia varie ricerche hanno dimostrato che su tempi rapidissimi i bambini se la cavano da soli, se non che abbiamo degli adulti sempre molto appreensivi, ansiosi, che pensano che succeda chissà che cosa, forse perché la situazione attorno a noi magari è un po' pesante, ma se noi riusciamo a sintonizzare queste ricerche scientifiche con l'educazione che diamo ai nostri figli, ecco che creiamo una situazione migliore, loro possono crescere imparando dei loro litigi, perché il bello di questo libro è che spiega proprio ai genitori un metodo per aiutare i bambini a imparare dei loro litigi, è uno strumento di crescita, è un modo proprio per stare con gli altri. Il metodo alla fine della via si basa su due passi indietro, ossia non cercare il colpevole, non dare la soluzione, due passi avanti, il primo il più importante, ossia aiutare i bambini a parlarsi, a darsi la propria versione e ognuno dire le proprie ragioni, invece normalmente gli adulti spengono le ragioni infantili e poi l'ultimo passo è quello di aiutarli a stabilire, a strutturare un accordo, ma in questo i bambini sono già molto molto bravi e quindi è un'occasione, un'occasione per fare meglio, per uscire dalle forme di colpevolizzazione dell'infanzia, per smettere di continuare a ulare e sgridare i bambini che non serve a nulla.